Un fine agosto, un fine estate, un fine agosto caldo, caldissimo se vogliamo, per la politica. Politica, peraltro, che è ancora in vacanza, nonostante tutto. Nel fine settimana sono accaduti tre fatti importanti e dei quali si continuerà ancora a parlare. Perché potranno condizionare l'immediato futuro della politica italiana? Fatti che hanno per protagonisti pugliesi e lucani. Venerdì sera a Nova Siri i governatori di Puglia Basilicata, Emiliano Epitella, hanno stretto un patto d'azione che li vedrà impegnati d'ora in poi sullo stesso fronte a difesa degli interessi delle due regioni e del Mezzogiorno. E questo sia nel loro partito, il Partito Democratico, sia nei rapporti con il governo Renzi. È un patto che potrà e dovrà cambiare la storia del Sud e dal quale dobbiamo tutti guardare con simpatia e collaborare anche superando gli steccati politici. Steccati che ha superato il neosenatore Michele Boccardi, che da fedelissimo difitto ha scelto di iscriversi al Senato al gruppo di Forza Italia, lasciando di stucco il suo fraterno amico. Ma anche in questa scelta apparentemente incomprensibile c'è un futuro molto più lucido di quanto appaia. E il primo a capirlo dovrebbe essere proprio Fitto. Boccardi gli ha aperto la strada al necessario dialogo con Berlusconi. Se vuole ricostruire il centro-destra, come dice di voler fare, beh, Fitto non può prescindere da Berlusconi. Né Berlusconi può prescindere da Fitto. E non si può prescindere soprattutto dal fare insieme questo nuovo partito sul quale per esempio l'ex Cavaliere sta già lavorando. Steccati sta per superargli anche Dario Stefano, che lascerà Vendola per sposarsi con Renzi. Sì, anche in questo caso c'è molta lucidità in questo progetto. Il futuro politico che Vendola prefigura non sembra avere molto respiro. Come non ci si può chiudere a destra inseguendo sogni impossibili, così non ci si può chiudere a sinistra, in una galleria senza sbocchi. L'estate quindi ci ha regalato tre spunti di politica che ci fanno ben sperare. Vuol dire che in questa terra c'è ancora chi sa ragionare, nonostante le apparenze. Grazie a tutti.